Va sia a Gianluca che a Ciro che sta qua e io spero a più presto di andarla a trovare all'ospedale perché noi senza di loro non possiamo fare niente. Questi portano la roba da San Tommaso, la portano qua, la riportano indietro, lavano tutto per noi e senza di loro noi non possiamo fare niente. Gianluca questa settimana ci è mancato tantissimo. Io non sono deluso dal Palermo perché non è la mia squadra, io guardo in casa mia, io sono molto orgoglioso dei miei ragazzi perché oggi hanno dimostrato di tenere testa a una corazzata. Noi ci siamo sentiti telefonicamente, per me sì, io sono ancora convinto che è una corazzata perché non è facile giocare in questo modo e in questo momento contro il San Tommaso, non è presunzione la mia, è attenzione, però oggi io sapevo che i ragazzi avrebbero buttato il cuore oltre l'ostacolo come del resto stanno facendo da un po' di partite a questa parte. Oggi magari siamo stati più fortunati a trovare il gol del pareggio, se no io penso che potevamo gridare allo scandalo se perdevamo questa gara. A parte il prestigio della partita che noi tutti sappiamo tutta la città quando era importante questa partita, poi io penso che per quello che si è visto in campo il pareggio sia risultato più giusto. Noi abbiamo affrontato benissimo la partita e anche quando siamo passati in svantaggio non penso che meritavamo lo svantaggio, però tutto sommato come detto il pareggio penso sia risultato più giusto.